Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi continuiamo la rubrica in cui guardiamo le migliori partite del campione del mondo Magnus Carlsen. In partita questa è una partita che lui sono sicuro non si dimenticherà mai, perché è quella che l'ha consacrato grande maestro. E inoltre aveva solamente 13 anni, quindi veramente una gioia immagino incontenibile. Allora vediamo subito questa partita veramente molto molto interessante. Contro il grande maestro Gagundashvili, D4 gioca il grande maestro Gagundashvili, lui risponde con D5, C4, C6, quindi una slava, cavallo F3, cavallo F6, cavallo C3, A6. La difesa slava è pure una difesa che ho commentato, quindi magari ti metto qui sopra il video. Comunque nella rubrica Aperture di Scacchi in 10 minuti potete trovare tutti i video delle principali aperture già commentate e analizzate. A4, inoltre se non l'hai già fatto ti invito a che stasso iscriviti qui sotto per non perdere i posti di video e supportare il canale YouTube Scacchista Matto. Perché A4? Perché il piano di questa difesa è quello di spingere in B5 per poi sviluppare l'alfine in B7 e magari riuscire anche ad attivarlo nella grande diagonale A8-H1. Quindi A4 evita proprio questa spinta. Alfiere D5, cavallo D7 per difendere il cavallo F6. A5 si blocca il lato di donna, si evitano anche eventuali minacce nella casa B6. D per C4, E4, H6, alfiere H4, alfiere in B4. Il bianco continua con donna A4, attacca l'alfiere in B4. Questo pedone comunque verrà catturato anche in seguito, quindi non è urgentissimo a catturarlo. Alfiere per C3, B per C3, G5. Vediamo subito come il nero passa all'attacco. All'attacco sia nel lato di re, ma in realtà anche nel lato di donna, perché comunque è molto esposto. Dunque è un po' da capire questo re che fine frappure. Probabilmente nel momento in cui Carlsen ha deciso di giocare D5, ha già pensato di voler rimanere con il re al centro. Perché a questo punto non ha più senso a roccare corto, ma neanche a roccare lungo sarebbe un sicilio con la colonna B aperta. Quindi si passa subito all'attacco. Alfiere G3, cavallo per E4, donna per C4. Carlsen così va un peone di vantaggio, perché ha catturato il peone in E4. E quindi è vero che ha il re al centro, ma in compenso ha un peone di vantaggio. C5, prova a liberarsi. Infatti qual è il principale problema della posizione del nero? Ecco se è alfiere in C8, che non ha completamente case. Carlsen non può svilupparsi in B7, perché il peone da C5 lo evita. E non può svilupparsi nella diagonale C8-H3, perché c'è il cavallo in mezzo. E quindi si prova a liberare Carlsen con la spinta C5. Alfere in E2 si poteva pure giocare D per C5, non era completamente sbagliata. Carlsen avrebbe risposto, almeno immaginiamo, con donna C7, con l'idea di ricatturare il peone C5. Invece, alfiere in E2 sta giurata da Gagunascivili, pedone per R, torre in D1, D per C3, donna per C3. E attenzione a cosa qui ce n'è, perché il bianco ha ottenuto un'ottima idea, un ottimo vantaggio. Il fatto di cercare di legare i pezzi del nero. Questo cavallo è inchiodato, l'alfiere non si può muovere, la regina ha poco spazio. Quindi è un po' complicata come situazione. E allora regina F6 è la mossa corretta che gioca Carlsen per cercare di liberarsi. Donna in B4, il bianco non vuole assolutamente cambiare regina, sarebbe quasi un regalo per il nero, perché in un attimo si libererebbe. Potrebbero giocare alfiere D7, alfiere C6, re in E7, torre in D8, o anche ci sarebbe il primo H6 e poi perso, quindi ok, anche il torre in C8 per esempio. E in un attimo la pulizia del nero sarebbe fantastica. Non cambia la regina e il bianco avendo questo vantaggio di spazio direi, perché può liberamente muovere i pezzi. Sì c'è vantaggio dinamico in questi casi, mentre il nero potrebbe avere un vantaggio mai statico. Quindi il nero ha l'obiettivo di andare in finale, quindi tramutare questo vantaggio a lungo termine, mentre il bianco ha un vantaggio a breve termine, vuole subito sfruttarlo. Donna in E7 si ripropone il cambio di regina, torre in D6. Assolutamente no, dice il bianco, cavallo F6, donna in D4. Attenzione perché qui il bianco è raddoppiato sulla conna D, potrebbe essere minaccioso. E5, una bella mossa, è un sacrificio. Molto spesso funzionano. Quando avete una posizione passiva, non riuscite bene a muovere i pezzi, state sulla difensiva, è meglio contraattaccare, anche a corso di sacrificare un pedone, ma liberatevi. Cercate di ottenere nuovamente l'iniziativa o semplificare i pezzi e quindi andare in finale. E questa è l'idea che ha avuto Karsen. Si libera, dà il pedone E5, in cambio può finalmente sviluppare l'alfiere, magari in E6. E infatti così è andata, cavallo per E5 gioca con una civili, alfiere in E6 risponde Karsen. Finalmente è riuscito a muovere questo alfiere campo chiaro. E sta ottenendo una posizione pare comunque, perché è vero che ha dato un pedone, ma almeno respira. Vediamo come procede. F4, torre in D8. Sta cercando di cambiare le torri. E' una scelta assolutamente corretta, perché appunto abbiamo visto come l'attacco del bianco è incisivo, vuole essere immediato. Quindi cambiare le torri, cambiare magari anche la regina, è certamente un'ottima opzione per il nero per entrare in finale. E perché non mi arriva di vincere? Perché analizziamo un'ottima posizione. Qui, come struttura pedonale, il nero è in vantaggio. Perché? Perché i pedoni G2 e G3 sono doppiati. Il pedone A5 è debole. Inoltre in un attimo immaginate un finale, magari con pochi pezzi, anche semplicemente solo finale di alfieri o solo finale di torri. In un attimo il nero può crearsi un po' di passato con B6 e ha il pedone A passato. Ecco perché il vantaggio è netto. Forse vi viene meglio anche immaginarlo con solamente un finale di re e pedoni. Secondo voi chi sarebbe la parte vantaggiosa? Certamente il nero, re D7, re C6, B6, peone A per e per e poi il pedone A è passato. O addirittura re B5, se dipende se il bianco riesce a evitarlo. Se lo evita, ok, B6, cambio dei pedoni e poi il re va a catturare i pedoni G2 e G3. Nel frattempo il bianco deve tenere a bada il pedone A6. Ok, andiamo avanti. Torre in D8, quindi donna a 4 scacco, il bianco non vuole assolutamente cambiare i pezzi. E qui re in F8. Torre per D8, donna per D8, F per G5, cavale in D5. Il nero, quindi Karzen, significa un altro pedone per l'attività. Stavolta stanno un po' cambiando la carta in tavola. I pezzi del nero cominciano a giocare. G per H6, il bianco accetta il scredificio, donna G5. Attenzione, la regina attacca un cavallo, minaccia la casa C1, minaccia il pion H6. Sembra che in un attimo sta cambiando tutta la posizione. Donna a 3 scacco, re in E8, torre H5. Il bianco non vuole accettare di difendere e passa all'attacco. Donna F6, la donna chiaramente deve muoversi, deve scappare. Alfie in D1, cavallo in E7. E qui arriva l'errore di Gagunashvili. Infatti gioca donna F3. Però probabilmente donna a 4 scacco era la mossa corretta. Non ha visto una combinazione tattica non tanto difficile. Anzi, se volete allenarvi, volete mettere pausa e cercare la combinazione tattica per il bianco. Qui il nero è forzato a giocare re in F8 e il tatticismo prevede cavallo in E7 scacco, attacca il re e regina, quindi obbliga il nero a cattore con l'alfiere. Ma dopo donna per D7 si minaccia donna D8 matto. Ed è un casino qui per il nero. Perché se si muove il cavallo per evitare il matto e allora arriva donna C8 scacco, re in E7, donna re B7 e qui cade tutto. Se invece non si muove il cavallo e si cattura per esempio il pionet H6, torre per, donna per, donna di 8 scacco e si cattura il cavallo. Quindi il bianco qui avrebbe vinto. Con un pezzo di vantaggio secondo me non ci sarebbe stata partita. Non si accorge di questa combinazione, gioca donna F3 e come sappiamo bene Karzen appena ha una chance la sfrutta subito. E quindi cavallo F5, alfiere in A4 scacco, re in F8, donna A3 scacco e stavolta cambia tutto. Perché ora il re può difendersi, può andare in G8, poi in H7, fermare il pionet H6 e passare all'attacco con la torre. E quindi cavallo in G4, donna D4, alfiere D1, re in H7. Il re blocca l'avanzata del pionet H e quindi ora finalmente si può attivare la torre. E una volta che la torre nera è attiva, per il bianco cominciano ad essere guai seri. Donna in D3, stavolta vedete come cambia tutto. Ora è il bianco che vuole cambiare la regina, il bianco che vorrebbe entrare in finale e cercare di pareggiare la situazione. Ma ovviamente secondo voi cosa farà il nero? Catturera la regina? Assolutamente no, fa donna G1 scacco. Perché ora è il nero ad avere l'iniziativa a voler attaccare. Re in D2, torre in C8, si minaccia a matto. Si minaccia a matto in C1. E quindi al F1 per intralciare la mossa del nero. Ma il nero gioca a donna C5. Cavallo in E3, quindi minaccia va di nuovo donna C1. E stavolta si può giocare. Re in E2, torre in C3. Attenzione, si attacca la regina ma soprattutto si attacca anche il cavallo dietro. E qui il bianco non ha più speranze. Non c'è nessuna mossa per difendersi. Per esempio, su donna D2 seguirebbe, qui con minacini molto molto belle, seguirebbe torre per E3. Non è stata giocata questa mossa, è solo un esempio per dimostrarvi come questa posizione già è persa. Qui il bianco ha giocato donna per C3, ma ora la vediamo. Su donna D2 segue torre per E3, donna per, donna per E3. E chiaramente è finita. Se non cattura la torre, ovviamente ok, re F2, donna per D2. Quindi non si può togliere la regina in alcun modo. Qualsiasi altra mossa di regina chiaramente segue torre per E3. Quindi donna per C3, donna per C3, cavallo per F5. E qui Karsen non cattura il cavallo in F5, ma gioca al fere C4 scacco. Infatti dopo re F2, donna D2 scacco, il bianco è spacciato perché dopo re G1, al fere per F1, la partita è finita. Infatti che succede su re per F1? Succede che ci sarebbe un attacco doppio a re e torre. E quindi ovviamente qua il bianco è abbandonato. Dopo al fere per F1 il bianco è abbandonato e Karsen è diventato il più giovane e grande maestro della storia. Infatti a quel tempo ancora se non sbaglio Karyakine non era grande maestro e quindi lui è stato il più giovane. Ora se non ricordo male è il terzo più giovane. È stato superato ma comunque grande maestro a 13 anni è veramente tanta roba. E allora fatemi sapere che ne pensate di questa partita. Se avete visto alcune varianti che non ho analizzato ditemi nei commenti. Al solito commentate o fate qualsiasi domanda che vi è venuta durante il video. Vi chiedo di lasciare un like se vi piacerebbe il video e vi lascio qui dei video in sua impressione da vedere. Ciao e ci vediamo alla prossima. Ciao e ci vediamo alla prossima.